Le Trusted Smart Statistics rappresentano la frontiera nella produzione di statistica ufficiale. Utilizziamo e utilizzeremo sempre più i big data per la produzione delle nostre statistiche di modo da renderle ancora più tempestive e rivolte ad una gamma di utenti sempre più vasta. Istat presenterà il programma per le Trusted Smart Statistics, un insieme di progetti che ha previsto per i prossimi anni. L'Università di Trento in questa sessione si concentrerà sulle Trusted Smart Survey che consentiranno di utilizzare i dati da dispositivi mobili e ridurre notevolmente il carico sui rispondenti, oltre che produrre nuove statistiche a partire anche qui da dati da sensori. Avremo l'Agenzia delle Entrate che ci illustrerà l'utilizzo del machine learning come un nuovo paradigma inferenziale, ma robusto abbastanza da poter essere utilizzato in progetti complessi. Infine, Eurostat ci parlerà della comunicazione delle Trusted Smart Statistics e di come in particolare l'aggettivo Trusted si concretizza nel fatto che la realizzazione di Smart Statistics rispetta i principi di etica e di trattamento trasparente di dati che sono propri della statistica ufficiale.